Un'ispirazione per la giornata di oggi, otto re sono andati dal dottore. Dopo otto ore il dottore ha detto loro di mangiare otto orate in otto orate. Ancora? Ti ho telefonato più di mille volte, ma non mi hai risposto. E pensare che non sono stata insistente. Un'altra ispirazione? Un carabiniere va nel cortile della caserma, appoggia un salvagente per terra e si siede con un remo in mano. Dopodiché inizia a vogare. Una donna vede la scena, e chiama un altro carabiniere, chiedendo. Non vede quello che sta facendo il suo collega? Faccia qualcosa. Questo carabiniere le risponde, mentre osserva il collega in mezzo al cortile che continua a remare seduto su un salvagente. Vorrei tanto fare qualcosa per lui, ma non so mutare. Vuoi un altro pensiero? Una signora vince un milione di euro al super enalotto. Tutta felice incassa la somma e corre a comperarsi una bella macchina. Arrivata dal concessionario, si fa mostrare i modelli più lussuosi e decide di comprarne una. Al momento di pagare il concessionario le dice, signora, lei è la nostra milionesima cliente, quindi per questo motivo la macchina, sarà consegnata gratuitamente. Lei, tutta giuliva, sale in macchina e parte sgommando. Quando arriva a casa, trova un mucchio di persone che attendono fuori. Si avvicina una vicina che le dice, sia forte. Qualche minuto fa una macchina ha investito suo marito. E lei tutta compunta, non c'è niente da fare. Quando gira bene, gira bene.